E ora parliamo di un altro progetto per le scuole, questa volta però si parla di sicurezza stradale, il progetto si chiama Guida che ti guido, è un progetto di ACI Arezzo per le scuole del nostro territorio, ne parliamo con Bernardo Mennini che è presidente di ACI Arezzo, bentornato. Buongiorno. Come si svolge questo progetto? Questo progetto riguarda le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, diciamo di tutta la provincia di Arezzo e ha come obiettivo quello di trasmettere loro, quindi anche a ragazzi fuori dall'età di patente, prima ancora di arrivare in quella fascia, quelli che sono i rudimenti primari di una educazione civica proprio nel comportamento sulla strada. Si parte con il discorso degli attraversamenti pedonali, come ci si comporta in quel caso e via via si sale verso l'utilizzo dei mezzi e quant'altro. Noi crediamo che la sicurezza stradale non possa essere imposta perché diventa una noiosa lezione ai ragazzi che poi non seguono, deve essere fatta in maniera gradevole, per loro condivisa, perché l'obiettivo finale è condividere il messaggio che passa. Quindi è un lavoro che coinvolgerà 1500 ragazzi dal 13 di marzo fino al 31 di marzo, quindi un lavoro imponente che viene svolto proprio qua in tutta la provincia, nelle varie scuole e lì la mattina questi ragazzi vengono coinvolti proprio in una, diciamo, attività di interscambio, di informazioni, domande, anche prove pratiche, piccoli esempi in loco che servono veramente per fargli cominciare a comprendere qual è il comportamento corretto quando si è utente della strada, prima sia come il pedone, poi il motorino, bicicletta, motorino, auto, questo è il concetto. Il nostro obiettivo è proprio quello di crescere dentro di loro questa sensibilità. Certo, questo è importantissimo, lo vediamo purtroppo troppo spesso e ora mi sembra un momento particolarmente difficile per quanto riguarda gli incidenti stradali, la sicurezza stradale. Il problema proprio della sicurezza stradale, noi abbiamo ottenuto proprio sabato un convegno in collaborazione con l'Ardita e è stato interessante vedere anche di vari soggetti, sia la Polizia Municipale che l'ex Presidente del Tribunale, come hanno affrontato anche il tema, cioè sul piano della difficoltà. Pertanto il lavoro vero è quello di fare un lavoro di prevenzione sulle persone. L'obiettivo di Guida che ti guida è proprio dare quel contributo, noi, assieme alle forze dell'ordine, tutte, di arrivare ai ragazzi e non spaventarli con una, come si dice da noi, noi gli facciamo una testa con un pallone su un concetto che poi loro rifiuterebbero. Li dobbiamo coinvolgere. È nella condivisione, nell'accettare questo fatto che cresce dentro ognuno di noi quella cultura della sicurezza, perché questa diventa un elemento di cultura. Se tu sai, fai. Se non sai, te ne accorgi solo quando succede il problema. Condividere questo passaggio rende tutti, l'obiettivo è far diventare i ragazzi consapevoli della difficoltà. Ci saranno anche in futuro prove pratiche, perché poi a maggio avremo il cart in piazza, quindi noi facciamo operazioni che sono veramente di avvicinamento in modo serio, perché questo messaggio deve passare, cioè deve passare come un elemento di convenienza. i ragazzi, perché se io mi comporto correttamente, conviene a me, non è un fatto etico per cui devo comportarmi per bene, che uno potrebbe considerarlo o non considerarlo, vista anche l'età, no? Invece dire, guarda, questo comportamento fatto così mi fa evita questo problema. Far capire quanto è la botta di quando tu confliggi contro un altro mezzo a 30 all'ora, a 50 all'ora, 100 all'ora, vederlo fisicamente, perché ci sono video, ci sono prove pratiche anche che lo dimostrano, questo è l'obiettivo di guida che ti guido, cioè coinvolgere i ragazzi, avvertirli preventivamente di quali sono i comportamenti corretti e farglieli condividere, quindi metterli loro in pratica perché a loro conviene farlo. Certo. Questo è il punto saliente in tutta questa vicenda che alternativamente diventa solo aria e noi stiamo evitando di fare l'ennesima, come dire, autocelebrazione che consideriamo inutile, dannosa, che serve solo per dire di aver fatto qualche cosa. Noi vogliamo veramente fare questo. La storia della provincia di Arezzo è anche, da caschiamoci in poi, è stata sempre una storia virtuosa, assieme alle forze dell'ordine, dalla prefettura, questura, tutti siamo protagonisti e tutti siamo alleati veramente in questo senso, c'è una grande solidarietà e anche un buon lavoro. Oggi è importantissimo fare prevenzione su questo fronte, anche perché se la prima causa di un incidente è la distrazione… E' questa la prima causa, la prima causa si chiama cellulare, non c'è niente da fare. Tu quando guardi il cellulare, semplicemente questo gesto, fare così e poi guardare davanti, ti porta a far sì che in questo istante tu viaggi come se avessi una benda sugli occhi. E' la stessa cosa. Questo è fondamentale comprenderlo. Se non si comprende questo fatto, noi stiamo viaggiando bendati per qualche secondo. Se in quel secondo hai davanti una persona che traversa sulle strisce, una macchina che frena, un qualunque tipo di ostacolo, tu non lo vedi, non c'è storia e lì nasce il problema. Quindi il problema non è solo che si telefona alla guida, ma che si chatta, che si manda i messaggi, che si guarda internet, che si guarda Instagram, Facebook e quant'altro. Questo non lo dobbiamo dire eticamente per gli altri, noi siamo qui. Dobbiamo fare la prima analisi su noi stessi, noi ogni giorno, quando accanto abbiamo quel cellulare, nel seggiolino accanto. E' facile, no? Dobbiamo fermarci. Cioè abbiamo un sacco di strumenti che ci permettono di lavorare senza toccare niente, facciamolo nella macchina, salviamo noi stessi e salviamo gli altri. E a proposito di ragazzi, in quanto genitori diamo anche un buon esempio quando magari abbiamo figli o ragazzi in macchina. Spesso l'esempio ce lo danno i ragazzi, ci riprendono nei corsi, per esempio, che formiamo anche questo aspetto, i ragazzi a casa riprendono i genitori. Questo è un segnale positivo, per cui il genitore dice, babbo, guarda che non si fa così, guarda mamma, non si fa così. Questo è un fatto importante, vuol dire che il messaggio è passato e gli si sedimenta al proprio interno e sicuramente quando saranno in età di patente queste cose gli rimangono. questo è l'obiettivo della prevenzione sulla strada come utenti. Perché si comincia appunto dalle scuole. Si comincia dalle scuole, bisogna insegnare la scuola. Grazie, grazie al Presidente Bernardo Menini di essere stato con noi.